Vi presentiamo gli effetti decorativi Acqua Granda, ispirati alla forza dell'acqua che avvolge e modella la città di Venezia. Acqua Granda che clasma le superfici come un tessuto scivola sulle pareti della città, vestendola di materia. Questi effetti si ottengono con svariate finiture decorative di San Marco, a seconda della texture da realizzare e che andremo a presentare. Vi presentiamo l'effetto Giudecca. La texture riproduce realisticamente l'acqua dei canali di Venezia e crea ambienti eleganti in grado di trasmettere benessere e calma interiore. L'effetto è realizzato con Fenice, rivestimento decorativo minerale a due colori. Le sfumature di colore che donano il movimento si ottengono da una lavorazione con velature decorativo ad effetto antichizzato. Per preparare adeguatamente il supporto murale utilizziamo Marco Therm Primer, fissativo idrodiluibile semicoprente applicabile a rullo o a pennello. Lo deluiamo da un 20% a un 30%. Per realizzare l'effetto Giudecca andremo a utilizzare due colori di Fenice decorativo stucco minerale in tinta T646 e bianco. Poi lo finiremo con velature decorativo opaco semicoprente in tinta A638. Andiamo ora a realizzare la prima mano di Fenice T646 liscio a compattare. Ora la prima mano di Fenice T646 è perfettamente liscia e asciutta. Andiamo a realizzare la seconda mano. Utilizziamo due colori differenti il T646 e il Fenice bianco applicati con la spugna fresco su fresco. Prima che la tinta T646 asciughi andiamo ad aggiungere Fenice bianco con la spugna marina tamponando la superficie fresco su fresco. A perfetta asciugatura di Fenice aggiungiamo velature decorativo opaco semitrasparente in tinta A638 diluito al 100% con acqua e lo applichiamo con il frattazzino di spugna su tutta la superficie. Una volta applicato andremo a rilamare tutto e lucidarlo con il frattazzo d'acciaio. Abbiamo presentato l'effetto Giudecca.